Eccoci qua! Oggi vedremo insieme la maglia away dell'Ajax per la stagione 22 e 23, nella versione FUN! La maglia da calcio away Ajax 2022-23 è Blue Navi con loghi rosso-oro e tre stripes. I loghi Aridas e Zico su fronze della maglia sono giallo-oro, mentre le tre stripes sulle spalle sono rosse. Lo stesso stemma dell'Ajax è diviso tra i due colori, giallo per lo stemma e rosso per le stelle. La parte anteriore della maglia è semplice. La caratteristica distintiva è il colletto, che presenta un motivo geometrico in maglia, sempre in rosso e giallo. Lo stesso motivo compare anche sui polsini delle maniche. Uno speciale simbolo, con la bandiera di Amsterdam, nei toni blu, è posizionato in basso a destra. Meraviglia! Questa maglia è meravigliosa! Nella mia classifica, senza ombra in dubbio, questa prende 5 stelle. Mi direte voi poi nei commenti cosa ne pensate. Di sicuro di questa maglia prenderò anche la versione player per poterle confrontare. Tra l'altro la maglia è fatta benissimo, le rifiniture sono corrette, i colori corrispondono esattamente a quelli che sono dell'originale. Costa veramente un prezzo bassissimo, che trovate qui sopra. E vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per sostenere il canale, ma anche ovviamente per acquistare la maglia. E vi prego di utilizzare i link che vedete qui sotto. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. Ciao! 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 Ciao!